Ciao e benvenuto! In questo video vado a svolgere un lavoro a Parma e faccio un giretto per le strade deserte prima del lockdown. Parma e faccio un giretto per le strade deserte. Stasera sono a Parma, mezz'ora prima del coprifuoco. La città è deserta. E' l'ora di rientrare. Manca dieci minuti. Eccomi rientrato all'Airbnb qui a Parma. E' appena scattato il coprifuoco, quindi ora nessuno a giro per le strade. Girare per le strade deserte di Parma era quasi irreale. Non sembrava vero. Meno male che non è sempre così Parma. Ma a Parma c'era stato quasi un mese prima. Vediamo come era andato il viaggio quella volta. Il viaggio ha inizio con le code in Fipeli. E' la sua 1x25 km. Sì, vabbè, ma andiamo un po' più veloce. Sennò non ci passa più. Apertura del varco temporale! Ma oltre al Duomo e al Battisterio ci sono anche altre cose da vedere. Tipo il Parco Ducale. Ah, giusto. Poi c'era la Basileca di Santa Maria della Steccata, che ve l'ho messo nel video poco prima. Qui. Esatto. In parole povere, il lavoro si è concluso bene. Quindi passiamo al prossimo video. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, commenta e condividi. Ma soprattutto iscriviti per non perdere gli altri video sul canale. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Ciao!